Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video. Questo video questa volta sarà sulle principesse Disney e vogliamo farvi conoscere ogni principessa che poi le principesse andranno a visitare il castello di Cenerentola che è un castello un po' particolare. Cenerentola, come ben sapete, ha sposato il principe quando hanno trovato la scarpetta di cristallo. Adesso facciamo la presentazione delle principesse. La prima principessa che viene avanti è Ariel. È Ariel, la piccola sirenetta. La sirenetta. Ciao ciao. La prossima principessa è Biancaneve. Ciao bambini, benvenuti. Facciamo avanti un po' di spazio a Diana. Ciao a tutti. Lo sapete che Diana è la principessa del libro La principessa e il ranocchio. Poi si va avanti Pocahontas. Ciao a tutti. Ups, Pocahontas. Poi si va avanti Jasmine. Jasmine questa volta è venuta da sola insieme a tutte le sue amichette. Allora viene rimasto al palazzo. Ciao a tutti. E poi, come ben sapete, abbiamo anche Cenerentola tra di noi anche se andremo a casa in un palazzo suo e là vedremo un'altra forma di Cenerentola. Qua è Cenerentola prima di andare al ballo. Ciao a tutti. Ciao a Cenerentola. Avanti un'altra. Adesso arriva Rapunzel. Rapunzel ha lasciato la torre e è andata a vivere al castello e adesso viene a salutarvi e andare a visitare il castello delle amichette. Ciao a tutti. Poi arriva Mulan. Mulan. La coraggiosa guerriera Mulan. Ciao a tutti. E poi si va avanti Belle. Oggi Belle è arrivata senza la bestia che poi è diventato un bellissimo principe. Ciao a tutti. Siamo quasi tutte. E arriva poi Aurora. O come la conoscete anche voi la bella addormentata. Ciao a tutte. e adesso che siamo qua tutte le principesse andremo a vedere il castello di Cenerentola. Ecco il castello di Cenerentola. Come ben sapete Cenerentola si è sposata il principe dopo che ha perso la scarpetta di cristallo e che le guardie l'hanno trovata. Ecco. Ciao a tutti. qua ci sta Cenerentola e il suo principe. Qua c'abbiamo una bella scalinata che facciamo vedere. Ciao. Ecco venite nel mio castello. Ecco. Poi abbiamo qua una piccola finestra che si apre. Poi ci abbiamo il portone sotto il palazzo. Ecco. e poi ci sta il piccolo ascensore che scende e poi risale quando Cenerentola e il principe vogliono andare a dormire. Poi ci abbiamo l'altra scalinata e qua facciamo salire il principe. Ecco. Poi ci abbiamo ecco una piccola torre che suona. Poi ci abbiamo la scarpetta di cristallo eccola e l'altra torre. Adesso facciamo salire ognuna delle principesse prima che sale Cenerentola perché sta a casa sua. Ciao Cenerentola eccola qua. Poi la seconda principessa che sale è Arie. Ciao Cenerentola che bel castello. Ecco. Poi facciamo salire Pocahontas. Pocahontas è salita Pocahontas poi facciamo salire Jasmine e mettiamo Jasmine dietro una scala più giù di Pocahontas poi facciamo salire Diana sulla ultima scalinata e adesso facciamo salire sull'altra scala la bella tormentata eccola e ci siamo poi facciamo salire Mulan è arrivata anche Mulan poi facciamo salire Ben eccola e poi facciamo salire Rapunzel ecco anche Rapunzel è arrivata anche Rapunzel e l'ultima che arriva è Biancaneve eccola qua adesso ci siamo tutte sulla prima scalinata Biancaneve Rapunzel Belle Mulan e la bella addormentata oppure Aurora e sull'altra scalinata ci sta Diana ci sta Jasmine Pocahontas Ariel e Cenerentola adesso si è fatto tardi cari amici 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 adesso abbassiamo l'ascensore di Cenerentola facciamo andare adesso tutte le principesse a salutare e a dire buonanotte buonanotte da Tiana poi buonanotte da Jasmine buonanotte da Pocahontas buonanotte da Ariel buonanotte da Cenerentola buonanotte da Biancaneve buonanotte da Rapunzel buonanotte da Belle buonanotte da Mulan e poi l'ultima che va via è la bella addormentata adesso che si è fatto tardi Cenerentola scenderà si metterà al centro scenderà anche il principe ops e si faranno un bel balletto se giriamo li facciamo ballare e adesso andranno dentro il castellone insieme perché si è fatto tardi e vi augureranno una bella buonanotte buonanotte cari bambini ci vediamo al prossimo video ciao ciao